15 giugno, ore 6, partiamo per la Croazia e alla nostra vista una flotta di pescherecci. Allo, allo, qui la presentatrice Elisabetta! E' il Sansego! Bene, allora, dopo una bella smotorata, perché il vento non ce n'è stato proprio, dopo 9 ore siamo arrivati e adesso siamo a Lussino per entrare in Croazia. Comunque devi fare due passaggi, prima qua alla polizia, documenti, poi vai di là, documenti, ma dopo finalmente puoi andare a fare il bagno. Dopo aver fatto i documenti a Lussino, decidiamo di passare la notte in rada al Gavitello, in una bellissima baia di nome Balvanida. Assicuriamo l'ormeggio e decidiamo di andare a cenare al ristorante di Balvanida. Per andarci ci dobbiamo andare con il tender. Adesso, operazione tender! Non so come da che parte l'han bloccato, come cazzo l'hai bloccata qua! Poi si lancia! C'ha l'autoespulsione! Operazione tender! 25 nodi sa come si scioglie una gassa! Come si scioglie una gassa! Coltello! Forse stiamo venendo a capo perché le gassa in tensione non si sciolgono. Lì c'era un nodo parlato, sì! E vai! Devo mettere il tappo! Vai, vai! Ma basta che lo asso! Siamo a Balvanida, andremo a mangiare al ristorante. Speriamo un po' di pesce arrosto. E adesso dobbiamo salire in quattro su un mini tender. No, che mini tender? Questi sono un yacht di lungo quattro ciabatte! Come si sta nel tenderino mignon? E sono due! Adesso gli altri due dove li mettiamo? Due pesi fa cogeri! Speri! Speri! Il tappo è dentro! Sì, perché... Chiuse il tappo del gombone? Sì, sì, ma non puoi trovare! Certo! Nel senso che se arriva il moto dopo... Guarda che non siamo... Il moto scontro! Ah no, ma tanto non siamo coordinati! Non siamo! Sì! Prendilo te il remo, scusa eh! Prendilo te, il suo! Il suo, il suo, il suo! E vai che si remà! E vai che si fa veloce! Si frena insieme! Questo è uno da quattro, comodo! E infatti! Maglio! Da due! Andate nello hotel quattro stelle la prossima volta! Ma non è quello! Vai! Avete visto passare due con una roba un cazzo metro eh! Prendilo in due! Eh! Questo perché in quattro cosa c'ha? Guarda come si è messa con l'altra! Oddio! No! 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 Questo in quattro è comodissimo! Poi siamo troppo avanti! Guarda io metterei qualcuno qua se vuoi! Siamo qui sei barca! Ma vieni quello che ti hai posto! Sto stretto disto abbiamo spavversato da un corso! Ma te non puoi cascarinare con quello? Stiamo arrivando! Dai io del tempo! Uno! Due! Vedi vedi a non mangiare la roba sana! Oh! Sremando! 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 Stiamo arrivando! Eccolo il mollettino con i penders! Oh 259! Dite! Meglio che cambi mestiere! La fonda non me l'hai fatta accendere! Oh! Oh! Ai ai! Noi abbiamo acceso la luce di fonda! Ai ai ai! Che vuol dire! Cosa vuol dire? Cosa è la luce di fonda? Perché è la luce di testa d'albero! Anzi no! Ma la luce di fonda non va eh! Perché noi siamo attraccati anche dietro! Oh! Hai visto i tenni da 350? Quanti ce ne sono? Ma vabbiamo! C'è questo! Che bel ristorantino! Stavo sotto la vigna a mangiare! Gnocco! In questo ottimo ristorante abbiamo mangiato dell'ottimo pesce arrosto e dopo la cena torniamo al tender! Ma abbiamo mangiato il pesce ma adesso dobbiamo risalire in questo canotto! Cioè guardate! In quattro! tra cui dei pesi facoceri! Toccherei salire in quattro! Per arrivare alla barca che è laggiù! Aiaiaiai! Ma mettete a sedere! Aspetta! Vai! Dai Betta! No! Un po' per volta eh! Prima voi! Dai! Lui mi lancia! Pulo dai muovetevi! Non mi piace da questa parte! Mi piace da questa parte! No! Ci ribattiamo così! Dove? Ma dove? Devi fare come me! Ti devi sedere come ho fatto io! Ti devi sedere come ho fatto... Aspetta! Buongiorno da Palvanita! C'è qualcuno già in acqua che si sta godendo la mattina l'acqua fresca che appena ha fatto colazione si è fatto un bel tuffo là! A poco stiamo facendo colazione e io mi devo ancora un po' svegliare! Laggiù invece c'è il signore si sta pulendo il pesce e naturalmente i gabbiani sono tutti lì a vedere di raccimolare gli scarti del pesce! Allora siamo in direzione premuta e passeremo qua al mezzo a questo canale che è il canale di Ilovic e questi posti qua questo canale l'abbiamo visto nel video nel weekend del 18 maggio quando abbiamo fatto due giorni con gli allievi di 25 novembre Oggi invece siamo qua in una barca cosiddetta da spaghetto siamo puramente in crociera sulla barca di Maglio che lui la sua barca definita la mia è una barca da spaghetto ecco quindi l'importante quando uno sceglie una barca è sapere cosa farci! Lui le idee chiare ce le ha benissimo! E dopo un giro veloce nel canale di Ilovic giriamo l'isola e andiamo a Pardine dove ci aspetta una baglietta con la spiaggia bianca e l'acqua turchese! E poi ci vediamo la prossima! Allora ragazzi, sono rimasta da sola a bordo perché non ho il coraggio di buttarmi in questa bellissima piscina diciamo l'occhio già sta godendo però è un po troppo freddo quindi ci faccio un pensierino un attimo a Grazie a tutti. Grazie a tutti.